Il caffè energizzante con Coach Tardino L'inclusione è necessaria in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo senza accettazione, senza la capacità di convivere con tutte le persone intorno a noi in un mondo interraziale e non andiamo da nessuna parte Allora stamattina volevo fare un po' una ricetta, una provocazione Ti piace la focaccia Bruno? Certo che sì Ma tra una focaccia e una bella pizza mozzarella, pomodorini gialli del piennolo e tartufo nero Prova a immaginare, il bianco, noi di tazza bianca in qualche modo siamo quelli della creatività del particolare, della possibilità di creare cose incredibili e poi con i pomodorini gialli la razza gialla è di una grande operosità E se poi un bel tartufo nero, la razza nera, le persone di colore hanno un fisico straordinario hanno un'atleticità, sono instancabili, hanno una passione nel fare le cose, una profondità, un soul Come potremmo dire, e allora se queste cose sono isolate, che valore possono realizzare nelle cose? Se invece queste cose le mischiamo, non potremmo realizzare delle ricette ancora più incredibili? E probabilmente con lo sviluppo della tecnologia noi abbiamo bisogno che questi ingredienti stiano insieme e non siano separati, altrimenti probabilmente realmente c'è da preoccuparsi e probabilmente realmente la macchina in un giorno avrà il sopravvento su di noi